mi chiamo andrea panzavolta ho avuto il piacere di svolgere il ruolo di coordinatore per un dibattito pubblico a livello nazionale oggi rappresento anche l'associazione internazionale facilitatori che si occupa di questi temi vi parlerò di cos'è un dibattito pubblico quando attivarlo e per quale ragione cos'è il dibattito pubblico è un processo di informazione partecipazione confronto che coinvolge la comunità locale rispetto alla realizzazione di una grande opera di interesse nazionale quindi parliamo di infrastrutture stradali ferroviarie porti aeroporti interporti quant'altro è nato in francia nel 1995 ad oggi sono stati organizzati cento dibattiti pubblici in francia è nato per affrontare i conflitti legati a temi ambientali è gestito dalla commissione nazionale del dibattito pubblico che un'autorità amministrativa indipendente che ha il compito di garantire il corretto svolgimento del processo di dibattito pubblico quando si attiva si attiva con le opere che ricadono del codice appalti si svolge in una fase iniziale di progettazione dell'opera per permettere appunto che ci siano in qualche modo alternative progettuali che possono essere presentate alla comunità e su cui discutere si apre con il documento di fattibilità e delle alternative progettuali che individua diverse soluzioni da presentare alla cittadinanza quali sono gli obiettivi e lo svolgimento del dibattito pubblico prima di informare la comunità informarli in maniera chiara trasparente e anche usando termini adatti ai non addetti ai lavori serve per garantire un'effettiva partecipazione un confronto diretto e raccoglie tutte le opinioni anche le contrastanti la struttura possiamo descriverla in quattro passi in maniera molto sintetica la scelta del coordinatore c'è un garante una figura terza che abbia le competenze per gestire il processo lo studio dell'opera e delle progettualità connesse quindi i temi prioritari su cui fare dei focus e andare a fare gli approfondimenti con la cittadinanza e quindi lo svolgimento proprio del dibattito pubblico gli incontri pubblici focus tematici interviste dirette per riuscire a raccogliere i punti di vista variegati e infine la relazione finale conclusiva in cui ci sono le indicazioni raccolte dalla comunità e che sono in qualche modo soppesate e rappresentate perché è importante organizzare i dibattiti pubblici perché in questo modo è garantito un'informazione accessibile a tutti in merito a queste opere di interesse comune la comunità locale viene formata rispetto a questi processi che sono complessi su cui è importante raccogliere il loro contributo si raccolgono opinioni e anche proposte alternative progettuali rispetto all'opera soprattutto da parte della comunità che sono i veri conoscitori del territorio il dibattito pubblico permette anche l'immersione di fattori di crisi in anticipo rispetto all'opera e quindi permette di risparmiare risorse e tempo permette anche di migliorare l'ambito urbano e extraurbano connesso all'opera con interventi connessi e infine instaurer a forza il canale di dialogo tra la comunità gli enti sovraordinati i progettisti e i comitenti dell'opera io vi ringrazio per l'attenzione e a presto